Con lui se ne va il protagonista austero e ironico di una stagione del cinema e della storia. Con Philippe Leroy, morto stasera a Roma, se ne va una leggenda, un autentico personaggio oltre il cinema nonostante le quasi 200 apparizioni tra film e sceneggiati da Il buco di Jack Becker in 1960, fino agli ultimi successi come vescovo di Terence Hill nella fiction Udon Matteo e all'ultimo congedo sul grande schermo con La notte è piccola per noi e di Francesco Lazzotti nel 2019. Nato a Parigi il 15 ottobre del 1930 come Philippe Leroy Bolier, erede di una famiglia aristocratica con sei generazioni di soldati e ambasciatori alle spalle, sdegnoso del suo titolo di marchese, va a scuola dai gesuiti, a soli 17 anni si imbarca come mozzo su una nave per l'America come un personaggio di Joseph Conrad. Infatti, una volta rientrato in patria finisce nella legione straniera e va a combattere in Indocina ed Algeria, arruolato come paracadutista anche se non si butterà mai da un aereo fino a dopo i 50 anni. Torna dall'Algeria con il grado di capitano e le medaglie sul petto, due legion d'onore e una croce al valore, ma ben presto capisce che è meglio trovarsi un lavoro, fosse anche al circo, lavorava coi cavalli, lo pilota di Bob o navigatore sulle barche offshore. Un parente lo aiuta a assaggiare l'aria del cinema e Jack Becker, colpito dal suo fisico asciutto, l'aria di chi ha visto il pericolo da vicino e conosce le armi, lo arruola nel cast del suo carcerario film che gli regala un inatteso successo mondiale. L'aria in Francia però è pesante alla vigilia dell'indipendenza d'Algeria e le Roi, passati da poco i 30 anni, capisce che per lui è meglio non restare. L'arrivo in Italia Grazie al clima favorevole delle coproduzioni cinematografiche tra Italia e Francia passa la frontiera e sfrutta le poche conoscenze accumulate a Parigi per ottenere qualche ruolo come attore. Lo aiutano Vittorio Caprioli e Franca Valeri che ha incontrato in teatro ed è Caprioli a offrirgli un ruolo nel Leone al Sole, 1961, sfruttando la sua seconda dote, maniere perfette, portamento aristocratico, aria naturale da gentiluomo. Per entrambi è una sorta di debutto, ma il giovane francese ha molte frecce al suo arco e viene adottato a Cinecittà. Da quel momento in poi, ha raccontato, il cinema francese mi ha dimenticato, ma in compenso sono stato adottato da quello italiano che mi ha trattato come un figlio. Però non ho mai fatto veramente parte del vostro cinema, mi sono sempre sentito un dilettante, nonostante una quantità di ruoli e tante esperienze con i maestri migliori. Dall'avventuroso Riccardo Freda all'impegnato Giancarlo De Bosio, dall'amico Gianni Puccini, quasi un pigmalione, e al popolare Luigi Zampa, trova sempre un ruolo adatto, spesso come il villain crudele e freddo. Poi il colpo di fortuna nel 1965 con Sette uomini d'oro di Marco Vicario. Nel ruolo del cervello di una banda di rapinatori, a fianco della bellissima Rossana Podestae di Gastone Moschin, fa del film il campione d'incassi dell'anno che frutterà anche un sequel. Diventa il suo passaporto per un mestiere che non gli assomiglia ma che lo renderà invece una figura doppia e ricorrente nel cinema italiano, gentiluomo raffinato da una parte, antagonista spietato e crudele dall'altro. Altra cosa sarà per lui la televisione, strumento di consenso popolare che gli offre nel 1971 la seconda svolta nella carriera. Lo convoca Renato Castellani e gli cuce addosso i panni di Leonardo da Vinci nello sceneggiato omonimo. Sandokan di Sergio Sollima Il suo temperamento si ricongiunse alla fine, cinque anni dopo, con la professione. Nei panni del flemmatico portoghese Ianes de Gomera nel Sandokan di Sergio Sollima divenne una vera stare e scolpì un'incarnazione salgariana indimenticabile, amata da 30 milioni di spettatori a puntata. Ben che si fosse misurato con il teatro, ben che avesse recitato anche per Godard, Comencini, Luigi Magni, Jack Direi, Dario Argento, Luc Besson, ben che avesse vestito da protagonista i panni di preti Ignazio de Loyola in State Buoni Se Potete, ufficiali, R.A.S. di Yves Boassé, ex nazisti, il portiere di notte di Liliana Cavani, fu proprio la TV a offrirgli i ruoli migliori. Giusto ricordarlo almeno in Quo Vadis, il generale, Elisa di Rivombrosa, l'ispettore Cogliandro e perfino i Cesaroni. Ma la sua vera vita era sempre più spesso fuori dal set, passati i 50 abbraccia finalmente la passione per il paracadutismo e verrà ricordato per gli oltre 2.000 lanci fin dopo gli 80 anni. Ancora nel 2011 fece l'osservatore in Afghanistan nel contingente italiano, Parafray Paralcome ricordava con divertito orgoglio. Altrimenti stava volentieri a casa, scrivendo poesie, dipingendo, disegnando i suoi mobili. Ho costruito con le mie mani cinque case. Nell'ultima ricordava 90 anni, un borgo incantato sulla via Cassia in cui ho vissuto con mia moglie Silvia e figlia di Enzo Tortora, madre di due figli amatissimi, scomparsa nel 2022, e con la mia famiglia non c'è un pezzo di plastica, ma tutti i mobili e oggetti in legno che ho lavorato, pezzo a pezzo. Come la mia vita. Con lui se ne va il protagonista austero e ironico di una stagione del cinema e della storia. Filippe Leroy era un mito con la sua voce rocca e sorgnona, il fisico scolpito come un ulivo antico, il distacco elegante con cui raccontava la sua vita da eroe conradiano.